Il Sindaco e la Giunta ricevono la cittadinanza per discutere sulla Taric, destinata ad aumentare per sistemare le casse comunali. Esami di maturità, oggi la seconda prova, diversa per ogni istituto, Platone a Classico, a Felio e a Potema nella prova di matematica. Ternana, attesa per la conferenza di domani, intanto anche il capitano Marco Capuano si allontana, su di lui gli occhi del Pescara. Ben trovati con l'informazione di AM Terni Television. In Consiglio Comunale, aperto ai cittadini, è stato un mezzo flop. Delle 60 decisioni previste ce ne sono state meno di 10. Nel frattempo però il Sindaco Bandecchi ha dato notizie sconcertanti per la cittadinanza e non solo. I dettagli nel servizio. Un consiglio aperto a tutti i cittadini come non si faceva dal 2001. Ci si aspettava grande partecipazione, ma invece ci sono state soltanto 11 pronotazioni tra cittadini e associazioni e di questi 11 molti non si sono presentati. Il numero legale è stato raggiunto proprio sul filo del rasoio, complici le vicende interne ad Appi, che sembra stiano rapidamente sgretolando la giunta, dalle dichiarazioni della Aniello alla vicenda Federighi. Il Sindaco Bandecchi, appena presa la parola, ha messo la cittadinanza davanti al fatto compiuto. Milioni di debiti da pagare, quindi tasse più alte, nonostante la diminuzione delle corse per la raccolta differenziata e i conseguenti disservizi. Destra, sinistra, la colpa è di tutti quelli di prima. Sono pronto ad andare in causa col rasma, tanto una in più o una in meno, ha detto il primo cittadino di Terni senza considerare che l'asme è di proprietà della CEA, società quotata in borsa e che dunque potrebbe configurarsi un rischio per i mercati. Bandecchi ha anche aggiunto di essere pronta a scaricare 17 milioni di debiti sulle spalle dei nostri nipoti. Posso attribuire alla giusta del centro-destra il fatto di non aver fatto qualcosa di importante per sanare questi 17 milioni di debiti, ma presumibilmente è la stessa cosa che farò io. Cioè lascerò ai nostri nipoti pagare questi debiti, oppure farò fallire l'asme. I pochi cittadini intervenuti hanno avuto solo tre minuti di tempo ciascuno per esporre problematiche ed eventuali risoluzioni. Alla fine la presidente Sara Francescangeli ha chiuso il consiglio, ma il sindaco ha continuato a parlare mentre le opposizioni abbandonavano l'aula, dicendo che da oggi proverà ad aprire un mutuo per una nuova raccolta differenziata, con nuovi cassonetti e nuovi camion di raccolta. Chiaramente con i soliti toni sopra le righe. Una seconda prova all'insegna della tranquillità per gli studenti ternani che stanno affrontando gli esami di maturità. Chiuso il capitolo scritti, ora si pensa agli orali. Si è svolta oggi in tutti gli istituti superiori della città la seconda prova scritta. Matematica allo scientifico, greco al classico, lingua straniera al linguistico, diritto ed economia politica al liceo delle scienze umane. Noi siamo andati a sentire i ragazzi all'uscita delle scuole. Com'è andata Federico? Ma secondo me è bene via, sono abbastanza consapevole di ciò che posso fare quindi molto poco, però con un po' di forza di volontà ce la si fa dai. Ma perché sei consapevole di poter fare molto poco? Perché? Vabbè, si diceva inizialmente l'illuminazione sul momento da Platone in persona. Quindi tu parti dall'umiltà? Sì, certo. Poi tutto quello che viene ti hai guadagnato. Dall'iperuraneo mi arriveranno le idee della filosofia di stessa e potrò tradurre tranquillamente la lingua. Per il livello di greco che di solito ho avuto in questi cinque anni, poteva andare meglio, però alla fine ce la siamo cavata. Ci sono state qualche difficoltà durante la traduzione della versione, perché comunque Platone è un autore un po' complesso da tradurre. Dal 2010 che non usciva, sono otto anni che non usciva greco, quindi un po' di difficoltà, però alla fine ci sono riuscito. Anzi, è venuta particolarmente bene rispetto ai miei standard. È andata bene, è uscita una versione fattibile sicuramente da Platone. Vediamo quello che avrò fatto. Anche tu come il tuo collega hai dei limiti su ciò che potresti fare, o sei più convinto? Diciamo che parto da meno umiltà rispetto al collega. Abbastanza meno umiltà rispetto al collega. Quindi, sì, ho cercato comunque di fare una bella versione, secondo me. Ecco. Senti, invece per l'orale sei preoccupato oppure? No, per l'orale stiamo tranquilli là, comunque con l'eloquenza si mette a parlare. Senti, cosa farai allora prima dell'orale? Ti riposi oppure studi ancora per l'orale? Ma io l'orale ce l'ho abbastanza in là, ce l'ho al 5, quindi da lunedì ci si mette piano piano qualche nodo al giorno. E lì mi stanno facendo le facce, ma è vero, è la verità. Ecco, come ho detto comunque l'evento catalizzatore dell'ansia è stato concluso, cioè l'esame di Greco. Quindi si spera che sia andata bene ed ecco, ci auguriamo tutti che sia andato bene. Comunque i professori sono stati buoni, ecco, sono stati buoni. Umbria e Marche avranno la loro ZLS, cioè zona logistica semplificata. Il governo ha infatti autorizzato la loro richiesta congiunta e adesso si apriranno le porte della semplificazione burocratica per le imprese che investono sul territorio ricadente nell'area individuata, i particolari nel servizio. L'Umbria e le Marche avranno presto le loro zone logistiche semplificate. Si tratta di aree geografiche delimitate all'interno del territorio regionale, distanti dalle zone residenziali, in cui si prevedono agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che intendono insediarvisi. Siccome uno dei requisiti previsti dalla legge per la creazione di queste aree speciali è la presenza di porti, circostanza ovviamente impossibile in Umbria, la richiesta, come prevista dalla legge, è stata presentata insieme alla regione Marche. L'emendamento delle due regioni è stato recentemente accolto dal governo, per la soddisfazione della presidente Donatella Tesei, per la quale l'attivazione di questa procedura era uno degli obiettivi di mandato del suo governo regionale. Grazie alla creazione di queste aree, le aziende potranno godere di incentivi fiscali e semplificazioni autorizzative per l'esercizio d'impresa e consentire così lo sviluppo dei nuovi investimenti. Passiamo alla cronaca. Walter Nappini, 61enne di Castiglione del Lago, ha perso la vita in un incidente stradale lungo la A1, all'altezza di Sasso Marconi in direzione Bologna. Nappini, in sella alla propria moto, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo per scivolare sulla carreggiata e poi sotto le ruote di un auto articolato che lo precedeva. Il 61enne in Castiglionese lascia la moglie e due figli. Le indagini sull'accaduto sono condotte dalla polizia stradale con il coordinamento della procura di Bologna. Walter Nappini era molto conosciuto in Umbria, nella zona del Trasimeno. Numerosi gli attestati di vicinanza e affetto giunti in queste ore ai familiari del 61enne Umbro. Arrestati dalla mobile di Terni due giovanissimi ladri romani, 20 e 21 anni, ritenuti responsabili di essere gli autori di due furti in zona Polimer il 15 marzo scorso a Campo Micciolo. Il servizio. La mobile di Terni, in collaborazione con i colleghi di Tivoli, ha tratto in arresto due giovanissimi, un 21enne ed un 20enne, entrambi di Roma, accusati di essere gli autori di due furti in abitazione commessi a Terni l'8 dicembre 2023 e il 15 marzo scorso. I due soggetti sono stati rintracciati a Tivoli, dove risultano residenti e dove sono stati ristretti ai domiciliari. Le indagini sono partite subito dopo il primo furto, commesso nella tarda mattinata dell'8 dicembre del 2023 in zona Polimer. In quella circostanza, i due arrestati, in concorso con un dieciassettenne che è stato denunciato, dopo essersi introdotti all'interno dell'abitazione forzando la finestra del salotto, si erano impossessati di diversi gioielli d'oro per poi darsi alla fuga a bordo di una lancia Ipsom, auto immortalata da alcune telecamere private presenti nella zona, noleggiata dal ventenne arrestato presso un autonoleggio di Roma. Anche in occasione del secondo furto, commesso il 15 marzo a Campo Micciolo, i tre soggetti avevano asportato diversi gioielli d'oro ed utilizzato un'autovettura a noleggio, questa volta immortalata anche dalle telecamere del comune di Terni. La successiva attività di analisi dei tabulati telefonici e una perquisizione domiciliare nei confronti degli indagati ha consentito di acquisire ulteriori elementi al loro carico. Risultava essere al lavoro, in realtà partecipava a battute al cinghiale con la sua squadra. Per un consigliere comunale dell'area del Trasimeno è scattata la contestazione di truffa aggravata a carico dell'azienda dove lavora, dell'Inps e dell'Inail. L'indagine è stata svolta dai carabinieri forestali di Città della Pieve che al termine di una minuziosa attività investigativa ha incrociato i dati delle timbrature nella sede di lavoro, i certificati medici per le numerose assenze e gli infortuni accorsi sul lavoro con i verbali di caccia al cinghiale della squadra a cui il consigliere comunale appartiene e lo hanno denunciato. I reati contestati sono truffa aggravata nei confronti del datore di lavoro per i giorni in cui risultava essere presente sul posto di lavoro mentre firmava la presenza delle battute di caccia al cinghiale e di falso ideologico per induzione a pubblico ufficiale il medico Tibase in certificati e contestuale truffa aggravata a carico di Inps e Inail in quanto partecipava alle battute al cinghiale nei giorni di assenza per infortunio e malattia Lavoro nero e sfruttamento dell'immigrazione clandestina arrestato un imprenditore cinese del tessile con due capannoni industriali a Marsciano turni massacranti e retribuzione a cottimo di pochi centesimi per ogni capo sequestrati capannoni e attrezzature industriali Maxi sanzione da 100.000 euro Imprenditore cinese arrestato con l'accusa di sfruttamento del lavoro nero e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il blitz dei carabinieri è stato compiuto a Marsciano dove l'uomo aveva un'azienda tessile L'imprenditore sottoponeva i lavoratori a turni massacranti che iniziavano all'alba e proseguivano fino a sera riconoscendogli soltanto una retribuzione quantificata in pochi centesimi per ogni capo tessile realizzato Al momento del controllo nell'azienda sono state trovate nove persone nessuna delle quali legata all'impresa da un contratto Durante il blitz sono stati identificati quattro pakistani tutti dotati di regolare permesso di soggiorno e cinque cinesi che non avevano nessun titolo per entrare in Italia L'imprenditore si sarebbe adoperato per organizzare il loro ingresso nel territorio che gli è costato anche l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina L'attività è stata quindi sospesa con l'imprenditore cinese arrestato sequestrati due capannoni in cui aveva sede l'azienda A carico dell'uomo è scattata anche una sanzione di 100.000 euro Terni è la città con il clima meno vivibile almeno stando ad una ricerca del Corriere della Sera che ha esaminato le serie statistiche sul clima degli ultimi vent'anni Perugia invece è nella top 10 delle migliori Un software in grado di analizzare una mole di dati cospicua si tratta di quasi 400 milioni di rilevazioni sui fenomeni climatici e la loro ricorrenza Il numero di notti con caldo tropicale ad esempio oppure le ondate di calore o di gelo gli eventi estremi, la presenza di neve e nebbia e così via Il Corriere della Sera ha pubblicato una ricerca sul clima nelle città italiane e ha anche fornito una classifica sulla loro vivibilità proprio in base alla media di giorni in cui le condizioni climatiche si fanno intollerabili per la popolazione residente Il risultato di questa ricerca è a dir poco impietoso per Terni che si classifica ultima tra le 108 città esaminate con il poco lusinghiero punteggio di 0 punti Specifichiamo che in quanto alle singole voci considerate Terni non è sempre la peggiore tra le città italiane ad esempio è quinta per il caldo estremo ma staziona a metà classifica quanto a precipitazioni ciò che rende Terni la meno vivibile d'Italia è la media complessiva delle rilevazioni che ne fanno una città afflitta da condizioni climatiche che più frequentemente che altrove comportano malessere per la popolazione Un dato da evidenziare è l'appresso che totale assenza di giorni freddi durante gli ultimi anni tutt'altra storia a Perugia che invece si piazza al decimo posto quindi una delle città migliori d'Italia grazie soprattutto alla sua ventosità e minore esposizione alle ondate torride in ragione della sua diversa posizione geografica in altura e meglio esposta al ricambio d'aria a riparo anche dalla maggior parte delle incursioni di aria gelida e invernale provenienti dall'Adriatico ma anche meno soggetta alle ondate di calore Tutti i dati sono riferiti al 2023 ma stando a quello che vediamo fuori dalla finestra non ci aspettiamo una significativa inversione di tendenza per l'anno in corso Un film fa parlare di Terni in tutta Europa dopo essere stato proiettato in alcune scuole ternane e aver registrato il tutto esaurito nei cinema cittadini il docufilm L'uovo di Ridolfi prodotto da Euromedia con l'associazione Ridolfi e Frank Malagricci finanziato da Fondazione Carit e diretto dalla regista ternana Grazia Morace inizia il suo viaggio fuori città L'Ordine degli Architetti infatti ne ha organizzato una proiezione con presentazione presso la Casa dell'Architettura di Roma e altre proiezioni sono in programma anche a Parigi, Madrid, Stoccolma e Zurigo Il film è incentrato sulla carriera di Mario Ridolfi e specialmente sulla sua opera a Terni la sua realizzazione ha coinvolto principalmente maestranze ternane Si riparte con la missione numero 18 in Ucraina alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere c'è fermento anche perché la partenza è fissata per i primi di luglio preoccupazione nella Terni per Terni Donna che opera presso l'ospedale di Terni nel centro salute Donna C'è fermento alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere che ha sede a Cospea di Acente alla Chiesa di San Giuseppe Lavoratore in programma un'altra missione in Ucraina la numero 18 che prenderà il via i primi di luglio Sì, noi il 3 luglio ripartiamo con la 18esima missione in Ucraina ancora una volta anche qui spero e auspico che questo appello questa mattina ci dia la possibilità di poter continuare a svolgere questa azione così importante per la popolazione ucraina in guerra perché noi porteremo un tir di aiuti umanitari e contemporaneamente con il tir di aiuti umanitari avremo la possibilità insieme ai nostri tecnici di cominciare a lavorare per la ristrutturazione dell'ospedale di Yashinia così come avevamo promesso adesso abbiamo a disposizione le risorse che ci ha messo a disposizione il Ministero degli Esteri Ma non c'è solo Ucraina e Palestina l'inimpegno della Fondazione in questi giorni la Fondazione è impegnata a sostenere l'iniziativa Terni per Terni Donna a sostegno delle donne malate di tumore al seno la verità è che si sta assistendo ad un peggioramento del servizio diagnostico Sì, continuano ad arrivare qui da noi segnalazioni poi noi abbiamo un gruppo di donne con Terni per Terni Donna che si è costituito proprio per cercare di fare mutuo aiuto donne malate di tumore che aiutano altre donne malate di tumore al seno abbiamo investito tantissimi soldi attraverso le raccolte che si fanno nella nostra città grazie alla disponibilità della città di Terni il centro salute donne che conoscono ormai tutti i cittadini di Terni e tutte le cittadine che hanno a che fare con il tumore al seno la segnalazione è presto detto la segnalazione è che purtroppo le donne devono andare torne di Terni, devono andare a Foligno a farsi operare devono andare a Foligno perché c'è una struttura organizzativa che non permette loro di potersi fare operare nella nostra città Io mi fermo qui, appuntamento ai prossimi notiziari e ovviamente con il ricco palinzesto di AM Eterni Television Arrivederci Grazie a tutti